assurdo ragazzi vittoria meritata della Juve di intraventi, siamo veramente imbarazzanti 9 sconfitte in 27 è partito, una media di Juve ogni 3 una media ragazzi da provinciale un po' di assurdo siamo imbarazzanti però ragazzi da dire, goda l'evento stra-irregolare perché lì c'è un fallo di braccio, dirai più grosso, non come una casa, come un'hotella a 5 stelle è una cosa impressionante, ma che cazzo fai tanto rosa D'Ambroglio nel finale per risa non so che cazzo è successo, che cazzo voglio arressare che cazzo voglio arressare che siamo indecenti, le perdiamo tutte 3 sconfitte nelle ultime 4 ma come cazzo fai le perdiamo tutte ma ragazzi, ma in zai, ma che cazzo diventano in realtà dai questi giocatori, ma non le sconfitte e mancano ancora unici partite vuol dire che veramente ce ne puoi fare altre 4-5 e entrare nella storia dell'Inter è negativo perché è qualcosa di imbarazzante che l'Inter faccia tutte queste sconfitte tutte queste percezioni orrende che c'è ragazzi, non ha fatto nulla Ciesli si è preso un cappuccino non ha fatto niente per la partita non ha dovuto fare una parata un cazzo cazzo c'è da risciare cazzo vuoi risciare Gatti ha annullato da solo Gatti, che è un tipo di persone imbarazzante che l'ha fatto vedere nelle scorse partite ragazzi, ha annullato completamente l'autore di Lukaku quindi c'è un problema di fondo proprio non c'è fiducia non c'è la testa ragazzi, ci battono San Siro veramente un risultato indecoroso per questa Inter in questo momento ragazzi è a meno 9 da noi la Juve ma con i più 15 sarebbe a più 6 quindi veramente ha altro le mani e dobbiamo ringraziare che nell'ultime due Roma e Milan hanno perso e la Lazio continua a vacillare in uno stato che oggi abbia vinto la Talata adesso sì ragazzi ci potrebbe rinseguire e riprendere veramente clamoroso la Juve vince fa il gol dopo pochi minuti azione manovrata con Vlaovic Rabiuk che dà un pallone molto molto bello sull'altinista percorsi lì c'è un'incomprensione fra Damiano e Du Dunfris mamma mamma mia che ha fatto ragazzi più sortito per sia Belanova in 10 minuti che Dunfris in 80 con quell'azione che ha fatto Belanova alla fine un'azione Dunfris ha fatto 0 sempre dietro e sempre veramente in modo indecoroso con questo giocatore che torna sempre dietro non ha un minimo di personalità da vendere assolutamente giocatore che non è non può essere da Inter e va bene in massimo non ha più con Serie A comunque dico Dunfris in Ramiani in comprensione Costi si consiglia fa un gran gol mi sembra la remake del pavolo che aveva preso all'andata questa volta però non l'ha buttata in rete ora non so che a me un pochino messo male sul posizionamento però ovviamente non è colpa sua e poi ragazzi c'è un minimo prima del gol c'era stato due occasioni di Barella entrambe le spinte bene da Scesni con i pugni poi ci riproviamo sempre ma veramente con poca poca roba con nessun tiro in porta la Juve invece si riprova prima del tempo che finisce così senza alcun altro lampo diciamo poi nel secondo tempo si apre con noi che andiamo a fare i cross cross e cross tutti in bocca a Scesni che li parla senza problemi e Lucanco e Lautaro annullati completamente da Gatti come ho detto prima Bremio non ha dovuto fare nulla perché ha fatto tutto Gatti Gatti è veramente una partita eccezionale l'aveva fatto fare nulla però perché le ha pese tutte però Lautaro era malissimo Lukaku è venuto a praticare qualche pallone leggermente meglio dell'autaro secondo me considerando anche quello che ci si aspettava però entrambi ampiamente insufficienti poi la Juve ha tre occasioni minimo per andare sul 2-0 con Chiesa che la spalla fuori di poco con una grande accelerazione in controbiere poi ragazzi nel centro campo c'era sempre dei buchi non ho capito come sia possibile c'è la Lovra l'unico che si salva Varello è nervoso però ha giocato così così Brozzi ragazzi va all'allentatore quest'anno è veramente un giocatore che va a 0-25 di risoluzione cioè è irriconoscibile non fa girare palla come sempre lento macchinoso non lo riconosco più cioè no che poteva accendere la lapadina ci ha provato ma niente di che difesa benissimo Cervi ha annullato Vlau ci hanno fatto un cazzo anche stasera è un morto vivente questo qui è un morto vivente ma ci fa caso che gli facevano a fare gol però ragazzi Costi ha fatto Costi e Gatti mostruosi devastanti insuperabili soprattutto Gatti ma ragazzi che Costi per sinistra ha fatto ballare il tango non vissuto alla partita Cross per Gatti ha la risposta di un'altra con la punta della dita per la farfalla 2-0 e poi ragazzi è un'altra conclusione di Costi salvata da un intervento di Mkhitaryan in scivolata molto bene Mkhitaryan in partita dove ha giocato forse dall'inizio poi alla fine ragazzi l'altro punto Luca Kugeko per forza cambia così non puoi togliere un certo campione di difesore no non puoi mettere la difesa 4 no vaffanculo che devi zaga vaffanculo a tutti ciao